Il dichiarato l'ho chiuso, ha chiesto un diritto di replica alla sessuale legge. Bravissimo perché siamo già mai sottati. Bravissimo anche perché Andrea deve andare a votare il Presidente della Repubblica. Passerà alle 6 o alle 11. Velocissimo in pillole. Parto dalla questione mense su cui vi chiedo, circolo scuola o altri circoli, magari un appuntamento ad hoc perché è una scelta importante. Io firmo quello che ha detto Fagioli sul tema della sicurezza, dei criteri, dei contenuti del progetto educativo, degli investimenti che ci servono perché dobbiamo rifare i centri pasti. Nel 2003 è stata fatta una gara per selezionare Seribo, la società mista. Da lì è nato un contratto. Un contratto che regola il rapporto fra il Comune e un'altra società. Poi noi sono soci di quella società al 51%, ma non abbiamo di fatto, per statuto di quella società, dei poteri di gestione. Ora, io personalmente mi sento più tutelato come non controparti di me stesso, ma con in mano un contratto che nel capitolato che stiamo redigendo e che è stato pubblicato oggi online in parte, finalmente dice quali sono gli obiettivi di qualità, di sicurezza nutrizionali condivisi con la ASLA e ti invito ad andare a vedere, magari siccome c'è anche una consultazione in cui si può dire la propria, in questi giorni parlarne insieme, perché lì ci sono dei criteri davvero innovativi e sicuri che possiamo garantire solo se noi davvero abbiamo uno strumento di controllo e aggiungiamo per la prima volta uno strumento di coprogettazione e cogestione del servizio con i genitori, i lavoratori e gli altri soggetti interessati, le famiglie. Oggi questa cosa lì non c'è, non c'è perché c'è una società mista con un contratto che non prevedeva questa cosa. Noi nella gara vogliamo inserire questo come obbligo della nuova società che entrerà. Lo vogliamo fare anche sperimentando delle soluzioni innovative di collaborazione con i genitori, le famiglie e i lavoratori. Se Ribo è in parte partecipata oggi da una cooperativa che di fatto è CAMST, manca di fatto in quella società una reale partecipazione dei lavoratori e degli altri portatori di interesse, i genitori e gli utenti a quel servizio. Questa è una mancanza importante che mi fa riflettere su quale ruolo di pubblico e di privato e anche di mutualità. Il discorso sarebbe lungo quando si parla ad esempio di cooperative, ma non voglio aprire dei capitoli. Questo per lanciare alcuni spunti che sono interessanti perché a volte quando si parla di privato, di pubblico noi siamo portati a dire pubblico perché pensiamo che il pubblico garantisca. Ma poi quali controlli, quali regole, quale reale partecipazione dei lavoratori e dei genitori? Questi sono tutti temi che al di là del pubblico e del privato nel merito dobbiamo garantire insieme. Questa è la discussione dei prossimi giorni che è aperta e che noi siamo pronti anche a essere convinti di posizioni diverse. Sul tema dei quartieri la riforma deve essere fatta entro il mandato, c'è un testo. L'ottica è quella di iniziare a fare un percorso che riduca i quartieri come nell'ottica delle unioni, delle fusioni, quindi di costruire un percorso. Il decentramento che è stato fatto negli anni passati è fallito, ma non perché vogliamo togliere o se è voluto togliere chissà cosa. Il tema è le persone, i loro bisogni, come noi diamo delle risposte. È evidente che negli ultimi anni c'è stata una mancanza di capacità di rispondere ad alcuni bisogni da parte del servizio che era stato rivisto con il decentramento. Nella logica della città metropolitana io credo dovremmo decidere le funzioni e non è detto che per forza dobbiamo ridare a quei quartieri, future municipalità e a cui confini andranno decisi poi realmente le funzioni che avevano prima. Perché magari decidiamo che la città metropolitana e i soggetti che collaborano con la città metropolitana per le erogazioni dei servizi gestiranno loro per tutta l'area metropolitana delle cose. Quindi è una discussione da fare ma è molto importante oggi mettere in mano il sistema di partecipazione dei cittadini ed è un tema del nostro partito anche perché oggi la politica non funziona nelle istituzioni, funziona poco in quelle decentrate come i quartieri. Abbiamo 20 consiglieri, 18 consiglieri che si lamentano perché non hanno cosa da fare e i cittadini che non riescono a parlare con loro. Quindi questo è un cortocircuito della partecipazione dei quartieri e dobbiamo cercare di renderlo, di superarlo. Da ultimo, elezione diretta voglio dare una notizia io sono per elezione diretta il problema è che bisogna arrivarci. Ci vogliono le condizioni politiche e non sono quelle che ha detto Garofoni prima sullo scambio perché è quello più pettegolezzo che una visione oggettiva secondo me le condizioni politiche sono innanzitutto che ci sia un consenso vero da parte di tutto il territorio a partire dal comune e capoluogo di sciogliersi. Io penso che oggi sciogliere il comune e il capoluogo sarebbe un suicidio. Abbiamo avuto il governo Berlusconi il governo Monti e il governo Renzi in pochi anni. Ogni anno facciamo quasi due leggi di stabilità le regole cambiano ogni sei mesi non sappiamo se possiamo tenere dipendenti non sappiamo come chiudere il bilancio noi cosa facciamo? La prima cosa che facciamo è sciogliere il comune e il capoluogo. Inoltre il tema vero è discutere le funzioni e le risorse di questa città metropolitana. Noi come ci presentiamo alla discussione con la regione del policentrismo famoso di Arrani dicendo che la prima cosa che facciamo è dividerci fra di noi per decidere chi fa il sindaco del comune di Bologna? Io penso che prima portiamo a casa le funzioni le risorse e ci assistiamo bene poi magari fra 24 mesi discutiamo di come modificare lo statuto e andiamo in quella direzione io ci sto ma andiamoci forti a quella decisione su questo perché sono per il partito degli iscritti anche se ho votato Renzi e credo che gli organismi del partito valgono soprattutto se sono dirigenti proprio perché sono stati votati gli iscritti la direzione del PD ha votato quasi in unanimità una scelta che è quella dell'elezione non diretta e dell'organo di secondo grado per la città metropolitana e quindi non perché l'ha detto Merola ma perché l'ha detto la direzione del PD siamo andati avanti con questa decisione grazie